Come utilizzare ChatGPT dall'Italia nonostante il blocco. Da alcuni giorni ChatGPT è bloccato in Italia. In questo tutorial vedremo come poterlo utilizzare in maniera facile, veloce e gratuita. Non sarà nemmeno necessario installare una VPN sul sistema operativo. Come vedete, se proviamo ad aprire ChatGPT ci verrà fuori una schermata simile a questa. Quello che dobbiamo fare sarà andare ad installare un'estensione su Google Chrome. Andiamo nei tre pallini in alto a destra. Clicchiamo su Strumenti e quindi su Estensioni. Se avete già delle estensioni installate le troverete in questa schermata. Per cercare una nuova estensione vai nel menu in alto a sinistra ed apri il Web Store. Una volta aperto, nella barra di ricerca scrivi VPN. Una volta aggiunta l'estensione, clicca sull'icona della WPN. Clicca su Continua. Ora non dovrai far altro che attivare la WPN tramite questo pulsante. Una volta verde la WPN sarà attiva. Ti basterà aggiornare la pagina Internet di ChatGPT. Ora potrai creare un account o accedere ad uno già esistente. Se il video ti è stato utile lascia un mi piace e seguici.